Mi chiamo Giussi Citro, rappresento l'industria grafica RPG, sono avvocato quindi mi occupo dell'aspetto legale. L'azienda si occupa di visual communication, quindi tutto ciò che riguarda la comunicazione per gli allestimenti, le tile, le store, eventi, fiere e mostre. Mi è stato consigliato da un nostro amico, caro e cliente, perché anche noi abbiamo e-commerce dal 2020. Credo che sia davvero interessante e molto importante, eccezionale, perché si nota subito la differenza della professionalità e tocchi con mano, effettivamente dei punti che ti riguardano poi personalmente, quindi lo trovo davvero utile e anzi ne approfitto per fare i complimenti perché è uno staff competente. La professionalità, l'esperienza e fatti non chiacchiere. Sicuramente ha delle aziende che come me vogliono crescere e investire. Sono formativi, sono importanti perché ti aiutano a crescere e soprattutto ti dà anche la possibilità di creare rete e e la rete oggi è importante perché insieme si cresce.